I sacrifici, se ci fossero più sacrifici da parte dei politici, la gente vive difficoltà che conosciamo, c'è la grande riforma delle pensioni, ce ne saranno altre, perché si va a liberalizzare, quindi si va a togliere privilegi a determinate categorie, ma i primi che devono togliersi i privilegi sono i parlamentari stessi, ecco, benissimo. Il Partito Democratico, per bocca del suo Premier segretario Matteo Renzi, lo ha sempre detto, tagliamoci lo stipendio, però in Commissione ha cercato di impedire, e c'è riuscita anche, la votazione di tutti gli emendamenti, non ha presentato un testo alternativo, quindi ha cercato anche di impedire l'arrivo in aula di questo testo, noi per fortuna siamo riusciti con il nostro impegno a portarlo qui in aula e a discuterlo adesso. La domanda ora è chiara, soltanto una è netta e anche la risposta deve essere netta. Volete voi ridurvi, tagliarvi, dimezzarvi lo stipendio, rendicontare le spese? La risposta è veramente semplicissima. Aspettiamo la vostra coerenza all'angolo, altrimenti non avrete neanche più la possibilità di mettere la faccia da nessun'altra parte. Grazie. Grazie a lei. Colleghe, ricordo a tutti che vi dovete rivolgere alla Presidenza, se è possibile. Onorevole Alberti, prego. Grazie Presidente. Dall'intervento del collega del Partito Democratico abbiamo capito, anzi abbiamo l'ennesima certezza, l'ennesima conferma. Quelli del Partito Democratico sono i migliori conoscitori del nostro sistema di rendicontazione, ti rendiconto.it. Quindi dovremmo anche pensarci adesso con le prossime rendicontazioni. Daremo direttamente gli scontini a voi, cari colleghi del Partito Democratico, ci fate voi le rendicontazioni perché siete diventati veramente bravi. Ma a parte le battute, Presidente, i numeri sono 18 milioni di euro restituiti ai cittadini, 18 milioni di euro in tre anni da un'unica forza politica. Sono sufficienti, non sono sufficienti, ne volete altri. Io personalmente al 30 settembre ho ridato 190 mila euro. Ogni volta che lo racconto in giro non ci credono.